In questo video voglio rispondere a una domanda che mi avete fatto, ovvero cosa prendere per l'ansia? Allora, cerchiamo di capire cosa prendere per l'ansia. Ci sono ovviamente dei farmaci, ci sono ovviamente anche degli integratori. Quando vi rivolgete a un medico, il medico di fiducia, il medico di base, può prescrivervi, per esempio, di andare in terapia, di fare psicoterapia, oppure può prescrivervi dei farmaci. Ovviamente questi farmaci possono essere dati solo dal medico di base, oppure da uno psichiatra, comunque da un medico. E quali sono questi farmaci? Sono le benzodiazepine. Sono dei farmaci impiegati solitamente nel trattamento dell'ansia, agiscono a livello di un recettore chiamato recettore GABA, e tra i principi attivi maggiori abbiamo delle benzodiazepine, abbiamo la prazolam, diazepam, il bromazepam, le benzodiazepine, quindi vanno utilizzate con cautela e sotto attenzione medica, in quanto possono avere degli effetti, come per esempio un effetto di dipendenza psichica. Poi abbiamo un'altra tipologia di farmaci, che è quello degli antidepressivi, che sono gli inibitori della serotonina. Questi farmaci, nonostante siano degli antidepressivi, quindi usati per la depressione, vengono utilizzati anche quando si hanno problemi di attacchi di ansia, ma soprattutto, in maniera specifica, di attacchi di panico, quindi quando magari si fa fatica a uscire di casa, eccetera. Ovviamente ognuno decide se prendere un farmaco o avere, iniziare altri trattamenti. Cosa prendere invece quando si va in erboristeria? Un modo alternativo a quello del farmaco è quello di recarsi dal proprio erborista di fiducia e comprare qualche prodotto naturale per risolvere appunto questo problema. Ci sono diversi prodotti molto buoni e che, a differenza dei farmaci, magari non creano dipendenza e non hanno degli effetti collaterali particolari. Per esempio, abbiamo prodotti a base di lavanda e scozia, valeriana, biancospino, rosmarino, camomilla. In erboristeria si trovano spesso prodotti che sono delle miscele da prendere al bisogno, come funzionano le benzodiazepine. Quindi, vediamo che ci sono sia gli integratori, sia i farmaci. Quindi, su cosa prendere per l'ansia, nel rispondere a questa domanda, come vedi, ci sono tanti e tante soluzioni. Dai farmaci che magari possono avere effetti collaterali, ai prodotti in erboristeria. L'ansia ovviamente non è solo qualcosa di fisiologico però, è anche uno stato mentale, una percezione diversa di alcune cose. È un modo di approcciarsi alla vita, è un conflitto interiore che abbiamo in quel momento della nostra vita. Non sempre quindi la soluzione passa dai farmaci. Un altro modo quindi per combattere l'ansia in maniera definitiva è quello di arrivare al nucleo di ciò che causa l'ansia. E quindi questo avviene per esempio con la psicoterapia. La psicoterapia ISTP è un approccio di psicoterapia che risulta tra i più efficaci e per porre un rimedio definitivo all'ansia. La sua caratteristica principale qual è il ruolo attivo del terapeuta pronto a cogliere qualsiasi segnale proveniente dal paziente. La ISTP è una tecnica nota per la sua capacità di accedere all'inconscio della persona e arrivare al vero motivo del malessere. In questo modo la consapevolezza porta a un'inevitabile guarigione. Negli ultimi anni i miei studi e le mie continue ricerche nell'ambito della ISTP mi hanno portato molto a crescere professionalmente con risultati straordinari in merito a problematiche quali ansia e attacchi di panico. Spero di essere stato utile in questo video. Se ti è piaciuto metti mi piace e condivido.